Uuuuh 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 Integro per me stesso a passo nello schermo spento alleato immagine che non mendica identificazione e non fa critica letteraria sulle eccedenze tautologiche dello specchio era forse un programma un'intersezione prospettica di euglioci che trova euglioci euglioci ammasciatore ammasciatore della vita dove sei ammasciatore della vita dove sei della vita dove sei ti ha usurpato il cadavere del giro che obbedisce alla vita che ha capitato in un altro sistema stellare aiutami 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 a seppellirlo in questa terra o in quell'altra se ti sponcherai di terra sarò io lavati a setacciare dalla tua pelle sempre sempre il nostro giardino a setacciare dalla tua pelle sempre il nostro giardino a setacciare dalla tua pelle sempre il nostro giardino che che si 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 il cadavere di un gemello sia mese che un po' di vita e di avere un'attività di più carato un'attività di più carato aiutami aiutami a sempre di nuovo in questa terra non con l'arte se ti scorterei di tempo siamo io a setaggiare dalla tua pelle sei un'unione di vostro corpo in un altro sistema stellare